Sbloccare il potere dell'attrazione. Trucchi psicologici che puoi usare oggi. Nel gioco dell'amore e dell'attrazione, spesso sono i sottili dettagli a fare la grande differenza. Ecco la nostra guida ai consigli psicologici su come attirare qualcuno che ti piace. Hai mai notato che piaci di più alle persone quando pensi alle tue azioni? Questo è un trucco inconscio che costruisce un rapporto e fa sentire l'altra persona a suo agio con te. Sorridi sinceramente quando la incontri. Non solo un vero sorriso. Ti rende più attraente ma lascia anche una prima impressione più positiva. Ricorda che un sorriso è contagioso e può migliorare significativamente l'umore di una persona. Falli sentire speciali facendo loro complimenti unici. Non accettare i complimenti tipici. Prova qualcosa di personale e premuroso. Perché tutti amano un complimento non convenzionale che li faccia risaltare. Non essere troppo disponibile. È nella natura umana apprezzare le cose rare. Quindi assicurati di dare loro un po' di spazio. Non si tratta di giocare. Ma di mantenere un sano senso di indipendenza. Pensa ai piccoli dettagli. Ricordare le piccole cose che hanno condiviso con te invia un messaggio chiaro. Ascolti. Ti interessi e sei interessato. Ciò può aumentare significativamente la tua attrattiva. Il linguaggio del corpo è incredibilmente potente. Mantenere il contatto visivo durante le conversazioni. Sporgersi in avanti quando si parla. E tocca delicatamente il braccio o la spalla. Questi segni possono aumentare i sentimenti di intimità. Usa l'umorismo. Far ridere qualcuno è un ottimo modo per attirarlo perché rilascia gli ormoni del benessere. Inoltre, dimostra anche la tua intelligenza. Una qualità che molti trovano attraente. Mostra la tua vulnerabilità. Nessuno è perfetto e può essere faticoso fingere di esserlo. Lasciare che qualcuno veda le tue imperfezioni crea fiducia e crea una connessione più profonda. Essere appassionati di qualcosa. La passione ti rende interessante. E mostrare entusiasmo per qualcosa può renderti più attraente. Dimostra che hai una vita al di fuori della relazione. Infine, sia autentico. Niente è più attraente dell'autenticità. Altrimenti, l'altra persona probabilmente noterà la tua insincerità. Ricorda che questi trucchi psicologici non sono tattiche di manipolazione, ma strategie per migliorare le relazioni con il mondo reale. Usali con saggezza e sarai in grado di attirare la persona che desideri. Grazie per la visione. Metti mi piace e iscriviti per ulteriori contenuti come questo. Grazie per la visione.